Dems mi senti? Sì sì Andiamo fra Ci sei? Let's go 2v2 eh? 2v2 Vediamo un po' Vedi che Mook è bello bravo eh? Bello bravo col cecchino Tu hai mai giocato col cecchino? Oppure no? Sì Ok Solo quick eh? Sperando che il ragazzo abbia capito che deve fare solo quick Perché c'è il ragazzo che non stava capendo Vabbè Uuuuh Mmm Bella Vai Occhio Bella Tu c'è due Tu c'è due Sono qua sopra Nooo Ma Mook ogni tanto sembra che tipo lo prenda e non entra il colpo Non so perché Ma Mook è bravo Sì sì vabbè bravo bravo Bella Pfff Cosa ho fatto? Due quick e velocissimi Uuuuuh Bella Sì Ve lo ho bravo sa al Koshka Fatto? Fatto? Fatto me Fatto me Fatto me Fatto me Pusho Nooo Come è possibile? Ah mi hanno preso a culo Bravo No devo dire ricaricare Vattene 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 ti inseguio Eh Lo ricaricavo quando me Ricaricavo Bella Noo led glitch Eh ci sta tantissimo Eh sì Vado Zeus ma sta facendo quick fra È impossibile E invece sì E invece sì Ritiro tutto quello che ha detto Mi ha fatto quick della madonna Occhio ce n'hai due davanti Arriva arriva resisti Ehm Arriva Eh ok Dopo c'è il tuo mok Nooo No il tuo mok No fra Ehm Ma io i colpi Dai l'azione Vai patti Aspettate che vengono qua Eccoli da me Ah no Arriva Bella Qual altro Entrato Non c'è Impossibile Ma sta spammando di no Scopo fra Lo sto usando tipo Lo sto usando tipo Vai ci sono Fatto Fatto Vai hai fatto anche l'altro Lo bloccare lo spawn Ok Pusciano No arriva No da dietro Da davanti Sì mi hanno chiuso Eh è bravo È bravo Vabbè sì Mook è bravo Fatto Merda Arriva Sì Vado tranquillo Mi difendo Arrivo Bravo Uh Vediamo come ha fatto Bella 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 Fanno Be quick Mi piace come giocano No Vediamola No Ehi Mook se l'è mirata Fra Mook se l'è mirata Bastardo No no Non so Miraglio Sì io non so Mirare Voglio pure Mettere il Koshka Che è quello che mira Vabbè ci sta Però alla fine Tanto Uh No Sono sempre Mook Vai vai Tieni quel lato Io tengo quello dietro Vai dietro Ho fatto Non muore Mook Madò Che gli ho fatto GG È un grande Vai vai Lo chiamiamo Chiudilo L'ho chiuso L'ho chiuso Mi sto facendo paura Mi stanno inseguendo In due No no Devo creare Vai l'ho fatto Sì è bravo Sì è bravo È bravo No te l'ho detto Sono tutte e due bravi Pure Zeus Eh Eh oh Fede Beh Arrivo Vabbè qui l'ho Fatto Lo canalizzo da questa parte C'è un colpo solo Ok Vai vai tieniti lui Io tengo quell'altro Ok No frate Non puoi capire Che mi ha fatto Che t'ha fatto Una cosa Bruttissima Ma c'è una bella killa Eh una bella killa Sta sopra Ma Che l'hai fatto Fra Se la deve ricordare Uh Uh Mi ha laggato Fra Oh siamo 38 a 29 Manco è tesa Comunque È tesa Mi piace Sì 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 Pure Zeus Ha fatto la babbiata Che non si va a giocare Non si va a fare Alla fine Uh Questa è stata Veramente brutta Fra Questa è brutta roba Mamma mia Ah l'hai fatto Ok Io stavo cercando Forse ho fatto la breve the game Penso Vai Tieni quello Tieni quello Vai Mamma mia Coordinatissimo Dems GG bro Che gioco da bot 2 Grande fra Ok fatto Mamma mia Colpa la testa Attenzione Mamma mia Big Mitch on fire Proprio lui No Vediamola So curioso Intanto voglio dare le kill Perché Di jump shot Fra mi ha fatto Mi ha umiliato malissimo Zeus Mancano 5 kill Attenzione L'ultimo Si può fare un fancy shot Ci sta 45 35 Fatto Arrivo Arrivo Io busho Busho Oh Sta laggando Mook Fra Eh lo so Mamma mia Come me la laggia Eh lo so Eh lo so 47 3 kill Manca Ne rimangono 2 Facciamo la doppia In kill Attenzione L'ultima Faccio 360 Alzo la sensibilità Io Proviamo Proviamo uguale No scopo io Eh voglio fare No scopo Però non cazzeggiamo tanto No 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 Vediamo che arrivano Tipo a 45 O 40 Proviamo Mamma mia 38 kill Morto 18 Spero sia la mia Perché è stata veramente bella Eh si Guarda Guarda C'è Ma aspetta Aspetta Faccio di nuovo l'altro Così Guarda In predict Boom Bellissimo GG GG Bella GG Cazzo Bravi No Io Sto All'ultima